ok già avviato vediamo quando inizia davvero ciao abbiamo iniziato ciao come saluti siamo qua per paolo siamo qua per paolo una sessione molto particolare conto da 5 1 5 4 3 2 sta camminando è un uomo in una vita passata barra parallela che cammina su su di un posto piano di ghiaccio con delle pelli di animali e pellicce addosso ed è anche di modi hanno 1230 dove schimesi mi vedo polo nord si ok ti dà l'autorizzazione si toglie il cappuccio con la pelle dalla testa e mi dice di sì a un avviso asiatico come dire con delineamenti asiatici può essere mongolia sì e chiara è come se da qui vedo che la struttura della terra era diversa nel 1230 si questa cosa c'era un pezzo di continente che non era ancora che non era come lo conosciamo noi come se vedo un quando mi ha detto cosa ho visto un pezzo di continente che ancora deve salire dal mare quando mi ha detto lappogna tu mi ha detto lappogna mongolia ma la voglia lappogna e allora è lappogna ok causa esoterica del fatto che paolo ci mostra la sua vita tra i ghiacci la prima cosa che mi dice è la caviglia freddo al piede che è un ricordo che lui si porta dietro come per ricordare un legame con questa vita qui e poi in questa vita qui è come se dice lui dice con questa vita qua io ho dovuto faticare molto perché sono nato qui era difficile la vita qua è come se la vita di adesso sia un che mi mostra una sorta di equilibrio anche se poi in realtà in uno stato più alto la piassa imparerà che non è che non è proprio così che non c'è uno non devi equilibrare niente che nel momento in cui prendi l'informazione è tutto relativo però in questo momento lui vuole mostrare a se stesso che in questa vita ha avuto una vita diciamo molto faticosa all'interno di questo posto ed è come se è come se dice a se stesso qui sono stato diciamo sofferto di più e adesso sto meglio mi mostra una sorta di equilibrio vedono come una bilancia e dice causa esoterica dell'incidente che ha condotto paolo a perdere intero braccio destro 40 anni fa e causa esoterica del fatto che da 40 anni sente l'arto fantasma la prima cosa che ho visto sono due cose che ho visto uno è stato un intervento di un entità di un falconiforme che è come se si è intervenuto per questo incidente l'altro è comunque una sua ps è come se lui è una persona che comunque si metta alla prova io vedo come se lui non si arrende davanti a niente nel senso lui distrugge ricostruisce si distrugge distrugge nel senso è come dal si mette nei guai per stare in una situazione per poi esatto per poi dire a se stesso c'è la ps me lo sta dicendo esatto quindi realtà alla fine della fiera assist è l'anima che l'ha fatto è come consapevole di stare nel gioco faccio questa vita scelgo di fare questo gioco quindi ha tratto il falconiforme che gli apporti ha tratto la situazione tale vero ok sono curioso dei valori vibrazione 55 miliardi giumbia percentuale di consapevolezza 55 189 55 miliardi e psp p e meno di più 63 64 ok vite precedenti 4 mila 110 percentuale di utilizzo del cervello 12 molto alto massima persona creativa creatività massima percentuale di utilizzo del cervello sulla terra al momento 25 è un personaggio noto no anzi al contrario io vedo come si donne e uomini più o meno che si aggirano a quella percentuale è il contrario come se non sono non hanno bisogno di come dire di essere conosciuti come posso dire no ma assolutamente hanno delle caratteristiche comuni per esempio l'arte la musica la scienza la medicina la razionalità l'estro l'opposto della razionalità il contatto con tanta gente con poca gente quello che vedo subito è che sono più puliti rispetto al resto delle altre persone che sono più diciamo una persona banchiere che sta lì che sotto diciamo le regole della società lo vedo incastrato e quindi con un livello di utilizzo del cervello molto più basso rispetto a una persona che ha compreso è una un livello di consapevolezza maggiore ecco diciamo che è un'attività artistica aiuta disegnare e suonare la musica suonare uno strumento cantare aiuta perché in realtà è collegato al discorso che sposti l'attenzione da la routine della giornata su te stesso quindi ti fermi fai qualcosa che ti piace questo qualcosa che ti piace in alza la vibrazione quindi ho e mette in modo tutto un meccanismo di anche energetico e quindi anche di utilizzo della del cervello mentale quindi tutto collegato ok riviviamo l'incidente vediamo a livello eterico cosa succede è la notte di natale è il 25 dicembre di un po di anni fa io vedo che sono sopra un volo sopra questa scena che parla allentatore perché in realtà è successo in pochi secondi è come se lui in quel momento viene innanzitutto vedo questo falconiforme è vedo da prima che sta sopra di lui nel momento in cui accade l'impatto è come se fosse l'avesse deviato come posso dire come se fosse entrato e deviato da dalla situazione che lui comunque nel momento dell'impatto c'è proprio la presenza di questo essere qua come si chiama dice odino si sono vino ero ero io e tu vedi che audino no manda mandato da lui ok chiama anche odino e odino zeus si è odino quello che non ha più le ali odino si come ha messo quali sono le ali ricordami la sinistra non ce l'ha più e la destra è piegata ok chi è che gli ha strappato alla sinistra ma dice che siamo stati noi e tutti quelli come noi che che a livello energetico lavorano contro di lui e la destra perché piegata cioè richiusa o è un mulcherino no è richiusa non riesce ad aprirla perfettamente ok falconiforme nome o lino ok è simile a un uomo o quindi delle braccia o alle ali no è simile proprio a un uccello quindi alle ali non ha le braccia no ma un uccello di che tipo è come se fosse similare similare a un corvo però rispetto a odino che lo vedo come corvo è più piccolo è un mandato da lui è similare a lui si mostra così ok vediamo le altre interferenze eteriche 3 dl che però questa volta queste dl sono tra virgolette guidati da un elohim che lui ha tratto con delle con un avvicinamento a un discorso di energetico ha ascoltato qualcosa che ha tratto un euro un angelo e lo vedo come angelo poi questo falconiforme qui che sta sotto dino poi vedo una una sola entità mentale collegata con la mente collettiva del secondo livello che parla con l'elohim e che qual è il suo compito cercare di deviarlo nella sua strada è una persona molto creativa una persona molto energetica una persona molto io lo sento caldo come posso dire se lo tocco quando l'otto insomma se lo tocco a livello energetico mi dà tanto calore rispetto altre persone quindi molto potenzialmente attivo come posso se mi spiego e quindi il senso è di nemmeno quello che gli accaduto ha fermato lui ha continuato la sua strada quindi il discorso a tentare di bloccarlo se paolo ha un'ottima vita livello lavorativo a livello sentimentale tanti 10 tanti 9 non ci sono problemi quello l'incidente chiaramente non gli ha fatto piacere ma l'ha superato abbondante l'unica cosa su cui oggi dobbiamo capire come risolvere è il dolore il dolore dell'arto fantasma il dolore del gomito che non c'è il dolore dell'avambraccio che non c'è il dolore della mano e delle dita che non ci sono dolore dolore continuo immaginate 40 anni di dolore dolore dell'arto fantasma destro e da dieci anni mica uno scherzo una serie di altri dolori al lato sinistro dove l'arto c'è ma è stato utilizzato poi neanche tanto ma ogni caso ha fatto le veci del destro e quindi ha avuto un doppio lavoro e quindi ha tutta una serie di problemi che scurati in un certo modo non hanno trovato nessuna soluzione bene chiamiamo il clone c'è un clone in realtà allora questa situazione è stata una messa in prova della sua parte subliminale quindi di se stesso della sua anima ma lui quando tu mi dicevi del dolore del gomito che non c'è io ho visto un essere fatto col suo dna che sta da un'altra parte quindi in realtà è come se lui la sua anima e che attiva questo clone abbia dei ricordi che riporta qui come se fosse una manca un equilibrio una mancanza no quindi lo riporta qua ma chiaramente non essendoci a livello energetico questa parte di energia che lui va a riempire perché lui la mette dell'energia acqua c'è lui la immagina l'immagina proprio che ci sia però non c'è le dava le dà comunque uno squilibrio a livello energetico quindi a questo è un discorso energetico dov'è come si chiama il clone dice luca dove sta quinta dimensione e su una terra della quinta dimensione quando è nato nel quando si dà quando ha quindi quando paolo ha fatto l'incidente lui ha in quel momento era è stato come ha avuto un abduction io ho visto già da prima che dall'impatto è come se ha avuto una sorta di abduction lì le hanno lo hanno clonato le è nato lì il suo clone il clone assomiglia a paolo si però più giovani quando è stato creato è stato creato con meno anni di quelli che aveva paolo vorrei non dirgli questa età così lì il campo è diverso io vedo che in una dimensione più alta in questo caso la quinta si invecchia di meno si è come se si quindi ha fatto proprio una copia perfetta alla stessa età di paolo dall'incidente però quello poi andato nella quinta dove si invecchia di meno e quindi oggi sembra avere meno anni di quelli di paolo ok nome del progetto vedo la parola trans ma io la socio a transumanesimo cioè come se vengono comunque in questo caso presi preso del dna per fare dei cloni in un'altra dimensione dove da soli c'è il nostro dna lì non ci può stare io vedo questo c'è quella dimensione la parte fisica non può coesistere con la parte energetica quindi è stato diciamo clonato ma ibridato con con esseri di quella dimensione per tentare di capire se possono tenere una ps lì perché loro non ce l'hanno transumanesimo però il trasferito non qui ma c'è invece che trasformare noi qui prendere noi e portarli lì che sarebbe una bella idea in modo che non ci rompano più le scale cosiddette con il loro raghini da infilare a destra e sinistra a proposito paolo non ancora visto q2 ma come sta a drago quando me l'hai detto io ho visto una come un carcere chiuso all'inter c'è visualizzato in un istante perché vuoi sempre così sono entrata nel buco dove è stato messo che il nostro definitivo ci sono dove entrare io dentro e alla fine di questo buco c'è un energia che non è proprio lui ma lo vedo come energia che si è trasformato in energia in in un in un carcere chiuso con della una gabbia energetica ok oggi sono le le buffonate di elezioni nella capitale d'italia e lui ha rilasciato delle dichiarazioni era lui il valutino non ci interessa no è un clone si completamente controllo mentale non si ma ieri prima della nostra sessione era lui che metteva ci metteva la faccia a si era già pronto un clone si voglia si ce ne sono altri io ne vedo altri disattivati si ok diamo questa informazione a tutti quelli che ieri hanno circondato dragos e l'hanno ridotto a quello che è e l'invito è di fare lo stesso con il clone e tutti i vari cloni le ps possono fare quello che vogliono possono anche bruciarlo un clone bruciato da dentro fuori uguale dentro è vuoto bruciato disattivato sì perché un clone in realtà se non c'è la vi essa non è nulla ma se anche fosse qualcosa anche fosse una ps una ps non può interferire miliardi di ps o milioni di ps quindi no ok io sono stufo di subire stufo io non accetto tutto questo non l'autorizzo e quindi non deve esserci va bene impianti prima eterici e poi vediamo se ci sono impianti mentali dell'entità mentale di secondo livello allora ci sono delle palline all'altezza delle spalle delle palline li vedo sempre così come palline di ferro a destra e a sinistra ginocchio sinistro e poi vedo però non la vedo come un pallino ma proprio come una piccola lastra sulla dalla cervicale in giù lunga quanto poco e 15 cm sì la spannetta a cosa servono ognuno di questi impianti le palline delle spalle vedo e come se le danno delle di input servono per qualche abduction perché loro da lì da qui e dalle spalle io vedo come esisti con la sua energia fluisce molto velocemente io vedo una lui è molto caldo e molto energetico come abbiamo già visto però è molto fluisce velocemente anche quando lui si ferma non si ferma cioè lui continua già continua è come se fosse una pronta sempre per fare una gara che la vedo così è come se ogni situazione della sua vita la vede non dico come una sfida positiva non una sfida devo vincere io per qualche modo una sfida proprio con se stesso quindi è come se loro nel con questi pallini che le hanno messo le le danno degli input per far fruire ancora di più questa questa energia e vedere come reagisce sono tutti esperimenti che poi non porteranno a nulla secondo me però ma non non portano mai nulla questi esperimenti sembrano esperimenti di cerebrolesi che non sanno bene come come vuoi passare le giornate o come cercare di rimandare l'inevitabile sono tutti esperimenti del cavolo questi alla fine e gli altri il ginocchio sinistro sono tutti collegati a come se li attivano come se attivano impianti mentali io vedo solo una questo fumo nero l'entità del secondo livello che cerca di bloccarlo ma nel suo caso questo qui che non ce la fa nemmeno cioè tramite un semplice dl non ce la fanno hanno dovuto cioè c'è l'intervento neun elohim che è più diciamo potente tra virgolette di un edl per cercare di bloccare i suoi pensieri per cercare di deviarlo però non lo vedo molto attivo questo non è un granché l'interferenza mentale c'è ma non è così impattante in passato leggermente di più in un particolare periodo della sua vita prima del vedo proprio prima della dell'ultimo matrimonio ok causa esoterica del malfunzionamento di stomaco intestino troppe evacuazioni pessima di gestione prima cosa questo fluido di energia che a livello fisico è come se lui ha tutta questa energia e la fa fatica a bloccarla come posso dire quindi a livello fisico la 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 concentra qua sulla sullo stomaco ma non la vede una cosa eccessivamente diciamo che porta delle complicazioni chissà che la vedo una cosa leggera è solo un discorso di energetico io le vedo d'acqua dal punto di vista esoterico e come non fluire di questa energia all'interno è sua è tutta sua però chiaramente poi ci sono gli edl che cercano di interferire questo questi input che le danno con con questi impianti per vedere che cosa fa lui con questa energia quindi chiaramente tutto parte di è tutto conseguenziale a diciamo alla situazione che abbiamo analizzato causa esoterica del dolore alla spalla sinistra e della peri artrite da dieci anni esoterica uno l'impianto noi a questi due pallini a destra e a sinistra ce l'ho che le pesano questo impianto e comincia questa questa parte qui è come chiaramente a livello energetico come già avevo visto prima ovviamente viene c'è un equilibrio viene sovraccaricata ma non solo a livello fisico di movimenti che lui fa perché chiaramente è così che questa è la situazione ma anche a livello energetico la sovraccarica a livello energetico è come se qui c'è questa energia che lui vuole mettere come ho visto prima cioè lui è come se si fosse creato una parte energetica che fisicamente non esiste ma lui la mette qui perché nella sua testa c'è però non trovando appiglio quindi funzionale si questa parte di energia viene spostata da quest'altra parte qua e quindi oltre a essere un sovraccarico fisico anche energetico e proprio energie energia certo è rosso lì proprio e il dolore da cosa dipende è questo del sovraccarico energetico da un passo di vista d'acqua si non è né entità né entità mentale né impianti suo o non totalmente impianti pianto sinistra ok ma non più di tanto è un sovraccarico energetico no io oserei dire proprio che questa sua energia che lui ha l'entità ci sono perché ci sono ok però è molto essendo molto attiva comunque lui si autori auto crea posso dire va bene vediamo velocemente il cosiddetto ipotetico karma che non esiste familiare il padre il fratello e la sorella hanno tutti dei problemi diciamo legati a incidenti i maschi e di salute la sorella l'età sono molto vicine tra i due fratelli e il padre incidenti in tutti e tre i casi e le modalità ovvero anche i mezzi che utilizzavano a volte sono abbastanza simili c'è un fatto che loro hanno fatto che si ricollega a più due vite di cui una quella che lui ci ha fatto vedere che reputava più importante dove ha sofferto molto ed è come se si rimettono in gioco è come se loro conoscono a livello familiare queste anime che già hanno vissuto delle difficoltà insieme e come se ricreano questa situazione in un'altra maniera per 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 avere comunque un qualcosa da da superare come posso dire un fatto che che si sono fatti nel cluster tutti quanti lo ripetono finché non comprendono un malo chisti finché non cosa devo capire non capisco cosa devo capire che non è così che non è reale che sono loro che non è vero che devono ripetere un certo set in quella vita e vissuto la difficoltà e conosci quello non è che lo devi ripetere basta l'hai vissuta perché la devi ripetere invece la ripetono le anime la ripetono ma ripetiamo le porte del cinema chiamiamo la madre e il fratello e la sorella i vivi di questa sessione madre sorella fratello alla madre subito sorella anche il fratello sta più indietro ok entrano tutti possiamo chiudere le porte del cinema si si mettono immediatamente hanno hanno già visto il film fino ad ora lo può di possiamo anche evitare alla fine che hanno già visto il film nel momento in cui entrano nel cinema hanno già visto il film che si è proiettato cioè la sessione si è proiettato fino ad adesso e chiamiamo come disincarnato il padre sta già qui da prima lo vede dall'inizio sessione anche lui dice anche da giorni io sto qua dove si trova da paolo sta paolo però vedo lui e poi vedo un mondo parallelo non so come dire una dimensione dimensione c'è vedo la casa di paolo però da un'altra parte ok quindi come se fosse sovrapposto lì seduto con le gambe incrociate per terra ok chiedo a paolo non sia un no con la testa è mancato dopo il tuo incidente si molto dopo molto dopo qualche anno fa famiglia so come ma cinque anni fa dieci anni fa 15 no vabbè poi due anni fa a due anni e mezzo due anni e cinque mesi non è non è importantissimo ok e il padre è collegato alla terra lui mamma moglie alla moglie un attimo alla morte e a paolo o solo la moglie moglie e poi a paolo nel senso che non è che collegato però loro osserva dice ok alla moglie crea dei problemi di qualcosa cerca di dirgli qualcosa dalla vedo come se cerca di sussurrargli qualcosa e come vedo anche che la questa donna lo sente cosa sussurra è come se lui vede quello riesce a comprendere a vedere da lì l'entità cioè le interferenze la parte energetica il mondo invisibile io lo chiamo quindi è come se la mette in allerta cerca di dirgli guarda che non è non vedi ma ci sono cose che che danno fastidio che le puoi evitare è rimasto qui per questo è come se lui è rimasto qui ma sta da un'altra parte ok quindi come se viene ma non è qua ed è come se lui riesce a capito quello che che c'è di là ci ha capito la verità tra virgolette si è avvicinato di più e cerca di comunicare con le persone con le anime al quale lui si sente ancora collegato e per cercare di dirgli state attenti che non è così è come se al livello di consapevolezza diverso rispetto a ai suoi familiari sulla terra e quindi cerca di comunicarglielo cerca di aiutarli in realtà il contrario invece cercare aiuto cerca di aiutarli il solito vedo il contrario però nella realtà non ha capito praticamente niente quindi c'è una consapevolezza molto bassa non andando dove deve andare non sta aiutando l'unico che deve aiutare il nostro in secondo luogo prova ad aiutare i suoi ex familiari che non lo sentono e che non capiscono e che al limite magari in alcuni casi non è magari questo il caso sono spaventati sono perplessi a nelle luci che sfarfallano hanno il mal di schiena improvviso e che non è una causa fisica ok vuole lasciare un messaggio alla moglie al figlio agli altri membri della famiglia non so perché adesso si mostra a me con un martello che lavora del ferro come si martella sul ferro quando mi hai chiesto se vuole lasciare un messaggio ed è come se dice che che ciò che noi pensiamo che non non si possa applicare in realtà non è reale cioè martellare il ferro è come per dire e lo martello e lo fa cioè lui da delle martellate una cosa di ferro che questa cosa di ferro si piano piano si si piega ed è come se dice in realtà la realtà è fatta così sembra dura ma non lo è questo è il messaggio che vuole lasciare possiamo come se lui dice si può modellare anche se così non sembra e tu sei d'accordo sabrina questo è quello che ha detto lui io credo che è tutto non reale quindi in parte si problema che non abbiamo a volte i mezzi giusti quando ci arriviamo per farle quando ci arriviamo la vita già passata già per uno come lui che pensa fosse anche abbastanza consapevole perché non è bastato a prendere l'informazione del portale auro che adesso apriremo e passare attraverso e finirla così e invece no è rimasto qui aspettato la sua sessione la stessa in cui il figlio lo avrebbe chiamato e dice perché vieni trasportato ci vieni trasportato da tutto questo è un film fatto bene è un ti senti protagonista quando in realtà bisogna essere osservatori e dice come se vieni talmente trascinato coinvolto sì che non chiudi gli occhi e la vita è finita non teneranno nemmeno conto e trascinato talmente tanto che che vivi le emozioni e non ti rendi conto che che la tua vita la tua occasione che ti sei scelto viene viene è un battito di sì lui ha visto portale aureo in questi mesi sì cioè quando lo ha lo apriamo i disincarnati lo vedono sì però non sanno come arrivarci è come se se non vengono chiamati in causa è difficile farlo anche se potrebbero è tutto è come se bisogna dargli nel momento in cui viene chiamato la persona l'anima è come se gli si viene data energia no quindi loro diventano più più capaci tra virgolette di arrivarci non da soli è più complicato va bene apriamo glielo voglio raggiungere qualcosa è il momento è questo e lascia il martello con questa scultura come se fosse una scultura che lui ha martellato di ferro e si innalza e diventa energia e ha saluto da se lo saluta dice io non vedeva l'ora di arrivare qui tutti non vedono da arrivare qui vedi l'ora dei fatti un giro lì dentro a tutte le volte a un momento debito nel momento debito esatto con due b 4b va bene chiudiamo il portale e torniamo a noi vediamo la causa esoterica del fatto che paolo nota un calo di energia negli ultimi 3 4 anni e è notato che è in concomitanza con il suo recente secondo matrimonio e allora vedo questo è come se comunque nel momento in cui ti avvicino una persona è come se moltiplichi le tue entità no quindi nel momento in cui tu non sai non è il momento da questo momento poi lo saprà vedo però comunque non sapendolo prima è come se mettendosi vicino una persona che ha ovviamente entità è inevitabile perché viviamo in un mondo così e se non ne sei consapevole non li sa gestire non lo sai l'energia ti viene tolta inevitabilmente è come se comunque questo evento per quanto sia positivo un punto di vista emotivo emozionale eccetera a livello energetico le viene viene utilizzato perché comunque la sua energia molto calorosa io vedo questa cosa qui a tutta la sessione lui è molto caldo molto accogliente e automaticamente non sapendo come proteggersi fino ad oggi perlomeno comunque non non bene non non come può acquisirlo non è un percorso che ha fatto ultimamente viene comunque utilizzato viene comunque anche soltanto entità di 66 anche io personalmente entro in un locale entro in un bar e non mi proteggo e quindi centro così è normale che sento qualcosa no questo è normale quindi la mia energia comunque viene viene vista viene presa viene dispersa come posso di utilizzata anche da da quest'altra persona c'è il nome da lei direttamente fa poco andremo al cluster andremo all'avatar faremo tutto quello che dovremmo fare non ci saranno più interferenze non ci saranno più impianti ma oggi noi dobbiamo chiamare prima di tutto questo sul banco degli imputati per risolvere questo il più possibile poi vediamo se davvero nella realtà questo avverrà il problema del dolore sul banco degli imputati la gente il generatore dell'energia in desiglio la ps benissimo un banco degli imputati la ps un altro banco degli imputati la pie terzo banco degli imputati il corpo fisico quarto banco degli imputati signora fantasma arto fantasma 44 cantoni si sb che parla lei dice come se sono io che decido tutto quanto sono io ho deciso queste esperienze sono io che il comando tutto il resto quando finisce questo dolore 40 anni ma io sono loro e lo porto da tanto tempo sono abituata tu lo senti sì ne hai una percezione ma non lo senti davvero ma no io non santo dolore come lo sante lui è un grande peccato mi piacerebbe che tu lo sentissi come lo sente lui magari uno di quei giorni in cui fa veramente male nessun antidolorifico fa più effetto ma il dolore non esiste la mente lo provoca il fisico per questo non riesco a sentirlo perché è nella mente tu non sai mente ma lo però a tutti e quattro il corpo la mente te e la partita erica come facciamo io adesso ti passo l'informazione concentrata di 40 anni di dolore di paolo te la passo e tu la senti ecco un'onda che sbatte addosso ti piace il fastidioso non ti vuoi fare un 4 mila anni così no quindi tu sei tu quella che decide tutto la smettiamo con questo dolore è sufficiente fare in modo che paolo gestisca meglio la sua energia quando la sua energia calda va nell'arto destro nel braccio destro invece di fluire esternamente e creare un casino si riduce l'intensità e torna indietro si però mi deve dare più ascolto dice come si deve muovere di più deve creare tutto quello che lui ha nella testa che gli fa male ogni tanto scoppia questa energia dentro di lui per muoversi deve creare di più altrimenti non so che farci e quindi interessa deve scaricare questa energia e metterla in canal arla in qualche progetto si arte disegno pittura tutto ciò che si muove tutto ciò che onda o quale risuona con noi lo strumento che suonava e che non sono più più onda di così sì io io lo dico va bene paolo lo farà tu prometti che la smettiamo con questo dolore sì basta che utilizzati più la sua potenzialità perché così altrimenti è sprecata è bella questa vita ma mi tiene in gabbio così era un modo per dirgli qualcosa un modo per dirgli aiuta di utilizzarmi per divertirci insieme bel modo per dirlo sia l'incidente che il dolore a mio avviso voi ps siete veramente delle pazze delle incoscienti delle disgraziate ma d'acqua tutto diverso è da qua no l'acqua no da qua invece tutto molto chiaro quando si vede tagliare un braccio è molto chiaro quando uno ha male e dolore 40 anni è molto chiaro quindi vedi di metterti nei panni di corpo anima mente e spirito insieme non solo la tua di esperienza e agisce di conseguenza immaginalo il dolore non è solo un'onda e questa informazione dalla tutte quelle come te in modo che la diciamo una volta e non la diciamo più visto che ci siamo vuoi lasciare un messaggio a paolo bisogno di muovermi mi sento in gabbia così lasciami fluire con te insieme la tua mente che è molto creativo l'ho scelta opposta divertiamoci insieme parla con me di più bisogno di comunicare con te basta va bene sabrina disconnetti ti in grantola lo stomaco perché lei andiamo al cluster mi mostra una mi mostra un negozio gli strumenti musicali lui all'interno del quale accanto ogni strumento c'è un un quaderno un quaderno con le scritto cioè i suoi fatti sono scritti con le note musicali come si chiamano media nel programma se ok me lo mostra così i fatti cosa vuole farne non le vuole vuole liberarsene è come se dice voglio anche suonarli mi dice questa parola acqua liberarli e lanciarli via trasformarli è molto più sicuro metterle in un portale definitivo si sa mai che poi tornino indietro bella l'immagine poetica le note che diventano gabbiani però adesso riprendiamo tutti i gabbiani le notte e le buttiamo in un portale definitivo poi sia sì ma in un altro contesto non qua qua ci vuole un intervento preciso puntuale chirurgico prende la vetrina del negozio con tutti i patti all'interno del quale mi fa vedere nella la prende la lancia in un buco definitivo su che si è aperto ok andiamo all'altra c'è una vada al seduto su una sedia inattivo con le braccia sopra il computer ma non non si muovono fino a quando quando è stato è diventato inattivo 10 giorni fa perché così tanto tempo perché come si è già accaduto volte ci sono delle delle sovrapposizioni temporali inaspettate che non dipendono che non vengono controllate via tutto non male la mano ti fa male alla mano perché alza l'energia di tutto il corpo specialmente della mano del polso destro la mano destra prende la vada inattivo la sedia il computer lo chiude che è un portatile e lancia tutto nel suo buco definitivo perfetto con questa condizione quel simpatico falconiforme legato all'incidente o di 3 dl l'entità mentale gli impianti eterici e le abduction il clone il clone luca e tutto quello che non ho detto eventualmente ci sono ancora no bene vite precedenti numero 4.110 913 1382 ok quella delle schimese chiamiamolo così c'è ancora ma l'ha eliminata proprio perché perché fa freddo lì perché andava in giro con i piedi nudi né sul ghiaccio è stata la prova di tanta 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 fatica l'informazione l'ha avuta la vita l'ha eliminata coerente in alcuni casi la ps è molto coerente quindi adesso l'informazione di passare 40 anni ad avere male non possiamo fare crescere nessun altro ma l'informazione di passare 40 anni con dolore l'ha avuta simboli così come eliminato l'eschi mese elimina il dolore si sta pulando a livello emozionale quali emozioni a bassa frequenza aveva come se dice una insicurezza però come una conferma di se stesso ogni volta che è una forma di insicurezza come un trovarsi una condizione per per ricredere che lui è capace come posso dire è una forma di insicurezza voluta però ecco cerca conferma in se stesso si crea condizioni di confermare che lui può questo dice si sfida si si autosfida adesso a livello emozionale è come se si fosse elevato questa telo che che lo teneva bloccato per come un autoricircolo di questa cosa qua e se la leva se la sfila e la lancia via dice ne aveva bisogno di fare questa cosa si spoglia ok bene la nuova sfida sarà quella di non avere più dolore e chissà quali cose magnifiche quindi senza dolore farà paolo quali quadri magnifici dipingerà quali gruppi musicali in quali gruppi musicali e finalmente entrerà visto che spesso va a dormire senza cenare per il troppo dolore spesso non dorme tutta la notte per il troppo dolore è ben difficile iniziare a pensare di fare i creativi in una condizione del genere a un nuovo ambiente adesso la nuova condizione energetica quindi nasce tutto dall'energia se si riesce a gestire la propria energia può cambiare tutto tante cose possono cambiare nuova vibrazione 62 miliardi pillola vi se vuole può alzarla 75 perché era già alta l'ha alzata sì ma di un terzo percentuale di consapevolezza il 227 psp 51 ps perfetto percentuale di cervello utilizzata 17 nei prossimi giorni messica ottimo bene il messaggio della ps l'abbiamo già avuto c'è la piena adesso come se quando abbiamo detto la p e vedo questo vortice di energia che si unisce alla ps c'è vedo due energie che si uniscono ed è come se dice dobbiamo fluire insieme perché in realtà siamo la stessa cosa ma lo spirito è più è collegato all'universo all'etere e la ps più collegata alla parte emozionale e quindi è come se lei lei dice adesso dobbiamo collaborare di più perché è come se lui era o emozione o edere in questo in questo momento quindi è come se adesso lui sia abbia compreso rivivendo vedendo la sua situazione di prima come gestire questa sua energia che è molto che fluisce molto velocemente quindi la ps la pie dice come unisci la la l'informazione dell'etere io sono etere con la tua parte emozionale per diventare un tutt'uno con con il fluire la tua energia all'interno del tuo corpo qui dice questo va bene come lo vedi bene come vedi il mentale di paolo 3000 molto attivo pulito è molto come se fosse il libro c'è un quaderno bianco dove lui è pronto a scrivere nuovo nuove indicazioni mentali per creare perché il pensiero crea dice così ok diamo un'occhiata alla casa e varie interferenze della casa le puliamo se possibile perché se dipendono da lui possiamo se no no vediamo se ci sono disincarnati nei luoghi che gli appartengono quindi questa casa altri luoghi no io vedo lui in questo momento nella sua casa completamente come se lui abbia imparato a farsi la sua palla energetica molto brillante in questo momento vedo lui che nei prossimi giorni si sposterà nella sua casa con questa sua palla energetica ma le interferenze della persona che lì non dipendono da lui ma lui saprà come allontanare pillola vick vibrazione informazione consapevolezza tripartita l'abbiamo usata ieri in q2 la forniamo a lui la offriamo a lui ma la moglie al fratello la sorella e la madre che sono nel cinema sono gli snack del cinema le pillole vip vick per randono e dei popolo e mangiano così ok c'è tutta l'informazione delle mie sessioni tutta la vibrazione che uno desidera perché la parte vi è come la caramella vi di vibrazione non di vendetta con il messaggio preziosissimo che la vibrazione si può alzare al livello che si desidera non c'è un massimo non c'è un ma c'è un sì di questo l'entità hanno una paura fottuta non si possono avvicinare con la tuta la paura perché sono fottuti alzatele le vostre frequenze quando qualcuno vi attacca e se ne va a gambe elevate confermo anche a livello fisico a tutti i livelli di continuo bene ultime immagini di paolo come lo vedi questa benedetta energia si è accamata si va ancora nell'arto fantasma no 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 lui adesso nei prossimi giorni vedo proprio che lavorerà a ci metterà anche un discorso mentale nella come post cosa ci si farà un domande diverse sa dove focalizzare la sua attenzione quindi come posso anche perché l'anima gliela ha detto gli ho detto io fammi la fammi esprimere altrimenti quindi lui li troverà nuove modalità lui mentalmente deve pensare a se stesso come a un'autostrada di energia no quindi questa questa questo giallo che stava in giro quando arriva alla spalla destra attualmente esce si fa l'arto fantasma e torna indietro e lui deve pensare ti domando arrivo alla spalla torno indietro esatto non è vesce non si esatto altrimenti crea un desequilibrio perché non c'è la parte fisica quindi è come se non trova appiglio e causa anche una dispersione sì che non deve succedere è una cosa che in effetti non succede non succederebbe se l'alto fosse al suo posto certo cioè uno sarà l'energia non va nell'arto che al suo posto e esce dalla mano e si fa un giro poi torna indietro così perché non lo fa sa che la mano il confine torna indietro qui non sa che la spalla e il nuovo confine ricorda confine mano e se ne va giù dalla mano e torna salito deve l'altro bordello mentalmente rendersi conto che nel momento in cui sente questa energia si ferma si deve fermare qua altrimenti è anche un amore di avere la lodole a questa cosa che riesce no perché una contenuta quindi è più è più abbordabile altrimenti no quindi di crearsi anche mentalmente una sorta di protezione sua personale come speriamo di questa in questa sessione molto interessante deve aver spiegato un concetto molto complesso ma molto semplice allo stesso tempo e di averlo sanato sono molto curioso di sentire poi paolo i prossimi giorni mesi settimane mesi se questa situazione con il suo lavoro di adesso settembre era o addirittura scomparirà adesso divane tutto da lui chiaramente mettere in pratica tutto quello che ha visto abbiamo tolto comunque molto non c'era tantissimo ma c'era e abbiamo soprattutto eliminato i patti passare da 4000 vite a mille è un quarto ed è già tanta roba va bene pronto a tornare disconnetti che allora da tutto e tutti